Dopo le tensioni di ieri, con la protesta spontanea degli studenti sostenuti dai loro genitori, attraverso la quale i liceali chiedevano di poter continuare a studiare presso il polifunzionale e di conoscere con certezza la data di consegna della sede di Lacameno chiusa per inagibilità, da stamattina tre classi del liceo scientifico di Ischia fanno lezione presso la scuola media Giovanni Scotti, la cui preside Lucia Monti, sempre concretamente disponibile verso le esigenze del territorio e degli altri istituti scolastici, ha messo a disposizione del liceo tre ambienti tra cui la mensa scolastica e l'aula magna. Aula magna che bene avrebbe fatto il comune ad rattrezzare immediatamente con degli appositi banchi, visto che gli studenti sono costretti a scrivere scomodamente sulla ribaltina di cui sono dotate le sedie che si usano nelle sale conferenza. I malumori esplosi con la protesta di ieri e che ha visto persino l'intervento della forza pubblica, certamente non si sono sopiti con il rientro in classe dei ragazzi, i quali, in attesa della riapertura della sede di Lacameno, attendono l'immediata adozione di una soluzione provvisoria dignitosa da condividere a rotazione con tutte le classi del liceo. Perché, come sostengono a gran voce i ragazzi coinvolti, non è assolutamente giusto che a pagare il prezzo del disagio dovuto alla chiusura dell'immobile lacchese siano solo tre classi, soprattutto se si pensa che con l'adozione dell'orario compattato si potrebbero evitare i doppi turni e tutte le classi potrebbero essere ospitate presso il polifunzionale, senza sfratti, come quello subito dalle tre classi attualmente ubicate presso la Scotti. Intanto si apre un altro spiraglio relativo alla disponibilità dell'ex asilo di San Ciro. Ovviamente, però, la priorità resta il ritorno presso la struttura di Lacameno, che la città metropolitana ha il dovere morale, ancor prima che politico, di restituire quanto prima ed isceali.